dal libro Gesù sacramentato e le anime sante del purgatorio preghiamo le anime del purgatorio affinché in tutto questo mese non si commetta peccato mortale né da noi né nella nostra famiglia scriviamo le grazie che vogliamo ottenere per la loro intercessione ricordiamole ad esse ogni giorno imponendoci qualche piccola pratica di devozione in loro suffragio ventisettesimo giorno glorificazione che Gesù riceve dalle anime purganti Gesù figlia sulla terra io non ricevo che offese freddezze oltraggi dovunque l'eresia e l'empietà mi bestemmiano nel sacramento dell'amore mi perseguitano fino sui miei altari profanano il mio tempio e vorrebbero se loro fosse possibile cacciarmi dalla mia propria dimora le anime sante che gemono nel doloroso carcere del purgatorio invece rassegnate al mio divino volere mentre baciano la mia mano che giustamente le percuote incapaci di offendermi meno ma mente sospirano notte e giorno verso di me la loro vita la loro preghiera il loro stesso dolore è un tributo d'amore e di riconoscenza per me esse mi amano con l'ardore dei santi mi amano per se stesse per gli uomini tutti e conoscendo le ingiustizie e il male che regna nel mondo la gravità delle offese che sono fatte a me loro Dio la grande moltitudine di persone che mi ingiuriano continuamente cercano di compensarmi d'amarmi per tutti quelli che non mi amano e mi offendono oh quanta consolazione verrebbe al mio cuore dalle anime del purgatorio che soffrono si acerbi tormenti e che vorrei poter liberare poiché io le amo d'amore sincero tenero paterno sono anime piene di meriti di santità di virtù che io non posso ancora ricompensare sono anime elette mie spose ed io sono obbligato a punirle non potrai non potrai tu figlia dare al mio cuore la gioia di liberarle offrendomi per loro le tue preghiere e le tue buone opere queste anime giunte al cielo cantano le mie celesti glorie mi amano e mi benedicono per tutti i secoli mi lodano e mi compensano per le offese che mi fanno i peccatori mi ringraziano mi ringraziano per gli sconoscenti e immerse nelle delizie del mio cuore mi consolano per tutta l'eternità perché dunque vuoi rifiutare di contribuire alla felicità e alla gloria del tuo Dio non sai che io concedo molte grazie particolari a quelle che pregano per le mie dilette spose e che colui il quale ne salva una da quelle pene atroci si può dire certo di giungere all'eterna salvezza sarai dunque sempre così freddo per l'avvenire mentre ti possono venire tanti vantaggi da questa facile devozione l'anima vorrei Gesù mio accosto del mio sangue della mia vita liberare dal purgatorio le anime a te tanto care affinché giunte al cielo ti potessero pregare per gli infedeli che non ti conoscono per le anime colpevoli che ti bestemmiano per tutti i cuori deboli e vili che osano avvicinarsi a te senza fervore e senza fede ma soprattutto io vorrei che riparassero le mie proprie infedeltà per tutte le volte in cui ho mancato da accostarmi a te per quelle in cui ho ricevuto la santissima comunione con freddezza e per abitudine per tutte le comunioni la cui grazia è stata sterile in me vorrei che riparassero alle mie ingratitudini senza numero e a quelle di tutti gli uomini accetta Gesù mio per quelle anime benedette le mie preghiere le mie lacrime ricordati che hai sparso il tuo sangue per salvarci e che sei venuto sulla terra per aprire a tutti le porte del cielo fioretto preghiamo Gesù sacramentato per l'anima del purgatorio che fu più devota del sacro cuore affinché ci ottenga di ricevere degnamente la santa eucaristia nei giorni di nostra vita e di trovare nel santo viatico nell'ora della morte il pegno sicuro della nostra eterna salute dal profondo a te grido o Signore Signore ascolta la mia voce siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica se consideri le colpe Signore Signore chi ti può resistere ma con te è il perdono così avremo il tuo timore io spero Signore spera l'anima mia attendo la sua parola l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora più che le sentinelle l'aurora Israele attenda il Signore perché con il Signore è la misericordia è grande con lui la redenzione egli redimerà Israele da tutte le sue colpe l'anima mia di